Ciao a tutti ragazzi e ragazzi Ciao a tutti ragazzi e ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Io sono Martina e lei è Clay E aspetta E oggi Assaggeremo dei cibi americani Allora abbiamo comprato Diciamo 5 cose O 4 2-4 un bel Allora abbiamo comprato La marshmallow fluff Come la dici? Poi abbiamo comprato L'oreo golden Poi abbiamo comprato Le specie di biscotti oreo Monti Monti Non so come si legge E dietro c'è il marshmallow Tipo questo E poi le pringos a gusto pizza Guardate l'immagine Bellissima Tipo la patatina Della pizza Che è il formaggio Ok Tutto delle cose salate Ok Allora abbiamo preparato tutto Un piatto con le tavaioli E dei cucchiaini Per scegliere la marshmallow fluff E anche le abbiamo di togliele qua Per scegliere tutto Allora Io Secondo me è meglio Iniziare a dare le patatine Sì così Di salato Guardate che bella immagina Sì Allora Iniziamo col salato Poi ci proviamo un bicchiere d'acqua Così si toglie Scegliere il salato E poi ci mangiamo i dolci Il resto è tutto dolci Allora così Abbiamo levato il coprecchio Ce l'abbiamo qua accanto l'acqua Io toglierò le patate Ah che bello odore di pizza Ah Capito Si presenta così Allora Normali C'è Una a te A queste Guardate che sono Sono un po' Sì 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 Sono pizza Mmm Oh oh Mmm Proprio buone Mmm Buone col pomodoro sopra Buone sono Mmm Se a me gioco queste cose Queste cose piccante A me non piacciono Però non è piccante No C'è un po' Di sopra Mmm Mange un'altra Mmm Buone 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 queste patatine Mmm Alla fine Sende il gusto Mi rende Il gusto Normale Mmm Ottime Vado Vado Ehi È l'olè Buonissimo Buonissimo Un becchiere d'acqua Buonissimo Un becchiere d'acqua Buonissimo 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 sono buono c'è pure l'hamburger cheeseburger però mi si vuole poi che cosa abbiamo? la marshmallow fluff, sono troppo curiosa va bene apriamo questa poi, guarda questo no, io ero il costello fino allora, apriamo finire bene dopo lo stagiamo si apriamo la fluff non abbiamo preso quella fragole perchè il signore ci aveva detto che era nauseante vero? si, allora dove si apre sto coso ai non ho fatto male come si apre? non lo so è una cosa americana, capito? ok mamma mia che c'è il zucchero a velo mmm ok, così e proviamo il zucchero a velo allora mmm che c'è il zucchero a velo dammi un cucchiaio dammi un cucchiaio aspetta noi ne assediamo poca mmm com'è? mmm buonissimo c'è il sapore proprio dello zucchero ho sentito lo zucchero del dente un altro puntino in pasta perchè è tipo una schierata di lato porca no, basta però è buonissimo oh basta non è bello, prendo più bello basta sei unici no da 0 a 10 vabbè 10 allora ovviamente queste cose mi sono piaciute tantissimo mi stavo specchiando se ero porca sei già maiore no? siiii siiii classico d'ora vediamo se di questo è uguale ok aspetta stai tranquilla ok ok allora si presentano così sono bianchi non mangiare senza di no tu non mangiare senza di no quindi te lo davi tu da solo ma una cosa il mio biscotto è messo al contrario aspetta ragazzi di solito dovrebbe essere qui anche la faccia il mio biscotto è messo al contrario vabbè niente si deve solamente mangiare ok uno un bel odore aspetta un masticato buon mmm io vado un 9 e mezzo anche io lo stavo girando mmm questo è buono raga tipo un biscottino male ok raga spero che questo video il suo successo allora aspetta sì e ovviamente queste cose non le abbiamo presso in line ma le abbiamo presso in uno negozio di ah di un di cibi americane e come si trova io continuo a mangiare queste pringos sono buonissime quello questa qui rossa è mia guardate come rossa guardate come rossa non ci sia grazie